Giada Samane giocava con le patine, sorrideva e ci teneva a precisare Spavalda che lei è grande, amonendoci di averla chiamata piccola. Ma domenica, rivela la giovane madre Tania, ho temuto di perderla, la bambina di tre anni, vittima di una crisi convulsiva, è stata salvata dall'intervento di una pattuglia della sottosezione di Avelino Ovest della Polstrada. Fabio Spiniello e Giovanni Maiello, due angeli in divisa, che Providenza ha voluto si trovassero in servizio, proprio sul tratto della 16, dopo la galleria di Monteforte Irpino, dopo aver raccolto il disperato SOS di Tania, i due agenti, facendosi spazio con la Pantera nel caos dell'autostrada, hanno ascoltato a sirene spiegate il pulmino diretto a Foggia, con a bordo la piccola Giada. In pediatria e medici hanno poi reanimato la bambina e tenuto sotto stretta osservazione nel reparto. A nord giunge Tania, che risiede con il marito a Pordenone. Spesso parlano male della sanità del sud. Dopo questa esperienza, di come sono stata accolta, posso solo parlarne bene del Moscati di Avellino. E il commosso grazie di Tania, anche alla famiglia che nei momenti difficili le è stata vicina. Signora Tania, come sta Giada? Giada sta bene, fortunatamente si è ripresa alla grande. È stato fondamentale anche l'intervento della Polizia Stradale? È stato vitale l'intervento della Polizia Stradale. Io volevo ringraziarli perché... Scusate che mi commuo... Sì, no, comprendiamo la commozione in questo momento. La Polstrada che arriva e fa da scorta alla piccola Giada. Io sono sicura che se loro non fossero stati là in quel momento, le cose si sarebbero evolute in situazioni, insomma, molto brutte. Insomma, in quel frangente hai avuto molta paura? In quel frangente ho avuto attimi di terrore e credo di aver vissuto l'inferno. Loro erano là, come hanno capito immediatamente la situazione, ci hanno fatto strada e ci hanno portato qua. Noi non siamo del posto, quindi non saremmo mai potuti arrivare con quella velocità ed era la velocità che ci serviva in quel momento per salvare la vita della bambina. Sì, perché Giada purtroppo in quel momento dava segni e segnali. In quel momento era, diciamo, priva di sensi e non era più cosciente, quindi è stata una situazione davvero tragica e brutta. Loro erano là, loro ci hanno salvato, loro ci hanno assistito e si sono accertati che è già da stesse bene. Quindi, grazie Fabio, grazie Giovanni, oggi ho scoperto i vostri nomi. Vi ringrazio io, vi ringrazia mio marito, vi ringrazia Giada, vi ringraziamo tutti. I due angeli indivisa, insomma. Sì. Tra l'altro anche in pediatria c'è stato un impegno massimo, ovviamente, per l'accoglienza di questa bambina. Tutti. Visto che era scattato già l'allarme. Tutti pronti ad accoglierci, tutti pronti a fare gli interventi, l'hanno assistita benissimo, anche con noi che, insomma, siamo un po' arrivati qua così, ci hanno accolto, ci hanno assistito, sono stati professionali.